Grazie a tutti Sì, 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 sì Sì, sì, sì Sì, 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 sì Ora, 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 ora! Che pare poco! Grazie! A Botiško che era da solo in tümmerha, da un po' di piacere, da un po' di piacere. A Botiško che era da solo in t'inferno? E' un po' di piacere, magari? E' un po' di piacere in quel momento. Nel'altro mi avremo. Ma che è andata? Sì, non lo sopravamo. Non lo sopravamo. No, non lo sopravamo. Non lo sopravamo. Stimulazione nel occhio. Ma la cosa faremo. Ma la cosa faremo. Il trozzo è aperto tra la bocciata, facciamo un po' che sta a vedere. Il mio trozzo è aperto tra la bocciata. Il mio trozzo è aperto tra la bocciata. Ti sento. Non ti sento. Io, tu non ti sento. Non ti sento. Alla prossima. Stai. 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 Grazie a tutti.